Ma qualche parola, qualche immagine sulla civiltà e l'inciviltà della parola. La prima immagine sulla civiltà della parola è un episodio, un racconto autobiografico di Freud che mi ha sempre molto colpito. Freud, il padre della psicanalisi, racconta di una sua nipotina che aveva dei disturbi del sonno, si direbbe oggi, difficoltà ad addormentarsi e chiedeva la presenza della madre di fianco al suo lettino e la madre dopo un po' si spazientiva naturalmente, diceva alla bimba guarda adesso spengo la luce, vado a letto, è tardi. E la bimba ad un certo punto rivolgendosi a sua madre dice sì spegni la luce, non importa, l'importante è che tu continui a parlare perché la tua parola è la luce. Questa è una bella immagine della civiltà della parola. Dove c'è la parola in fondo noi non siamo mai soli, non siamo mai solamente nello sconforto, non siamo nella solitudine, non siamo nell'abbandono. La parola come luce è ciò che ci fa stare insieme. Ma dobbiamo pensare che allora l'inciviltà della parola, quella a cui tu ti riferivi, l'inciviltà della parola è ciò che rende impossibile lo stare insieme. Se la luce della parola, come dice qualcuno, è riuscire sempre a fare qualcosa del buio, e la poesia è in fondo l'arte sublime, avete appena citato Leopardi, di fare qualcosa del buio, di riuscire a mettere la luce nel buio, ecco, l'inciviltà della parola prende le forme della distruzione della parola, della distruzione del dialogo, per esempio, dove c'è violenza verbale, il dialogo viene annichilito, annientato, l'insulto, l'offesa, la diffamazione, sono tutte forme in cui si manifesta, diciamo così, la morte della parola. Ma noi abbiamo in Occidente una immagine straordinaria della violenza della parola, che è l'immagine della Torre di Babele. È un'immagine biblica. Che cosa volevano fare gli uomini della Torre di Babele? Costruire certamente, come ci ricordiamo tutti, un grande edificio verticale che sfidasse la potenza di Dio. È l'arroganza che caratterizza i babelici, sfidare Dio. Ma, più precisamente, nei versetti biblici noi leggiamo che questi uomini vogliono, oltre a costruire questa torre, diventare un solo popolo con una sola lingua. Questa è la violenza più radicale dei babelici. Non esistono altre lingue, non esistono altri popoli che non la nostra lingua, il nostro popolo. E come Dio interviene rispetto alla follia fondamentalista dei babelici, oggi, ahimè, tornata di grande attualità, interviene sparpagliando le lingue, differenziando le lingue. Cioè, interviene obbligando gli esseri umani a tradursi. Questa è una definizione molto bella che un grande filosofo come Benjamin dà della democrazia. In fondo, che cos'è la democrazia? La democrazia è la necessità, l'obbligo della traduzione. Poiché non esiste una sola lingua, ma poiché essere umani significa abitare il mondo plurale delle lingue, per stare insieme, non si tratta di coniare una sola lingua, ma di rendere possibile l'arte lenta, difficile, paziente della traduzione. E noi abbiamo un altro oggetto, che è un'altra immagine, che, come dire, si contrappone alla torre di Babele. È un oggetto che conosciamo bene, fatto di parole, è il libro. Il libro è il vero antidoto alla torre di Babele. Il libro non è una torre, il libro assomiglia piuttosto, io dico sempre, ad un mare. Il libro è un mare. E come il mare è una grande figura dell'aperto. Ma perché il libro assomiglia al mare? Perché il libro tiene insieme lingue, popoli, patrie, differenti. In ogni libro ci sono sempre più lingue, in ogni libro ci sono sempre più mondi. E non è un caso che tutte le dittature, di ogni colore, abbiano bruciato i libri, abbiano, come dire, devastato il mare del libro. e noi abbiamo un'installazione di un artista messicano che vediamo forse, credo, fra un po', che si chiama Jorge Mendes e si chiama L'impatto del libro, o più precisamente El Castillo. Voi vedete questa straordinaria installazione fatta da mattoni, un grande muro e sotto il muro un piccolo libro. E questo piccolo libro, la potenza della parola del libro ha l'effetto di incrinare il muro, cioè di aprire nel muro, nella compattezza solida del muro, degli spazi, degli interstizi vuoti. Cioè, se il muro rende impossibile la comunicazione, hai tirato su un muro, non mi parli più, non ci parliamo più, c'è un muro tra noi, ecco, il libro possiede la forza straordinaria di aprire il muro, di incrinare il muro. Evviva il libro! Evviva! Evviva! Aspetta! Evviva! Se non ero adesso in televisione, con la nostra rete, con il lessico civile invece, dove però riprenderai sicuramente questi concetti, hai parlato di muro perché nel tuo nuovo libro, fra l'altro, che si intitola, no, si intitola Le nuove melanconie di Raffaello Cortino, editore, c'è questo tema molto forti, racconti oggi quali sono i nuovi muri, i muri mentali di chi vuole appunto il sovranismo, vuole separare, ma anche i muri di chi si chiude in casa, i giovani per esempio che non cercano più un lavoro, non cercano più nulla, si chiudono in casa. Ecco, io ti chiedo, davvero oggi il vero conflitto del nostro tempo è fra apertura e chiusura? Sì, io direi che queste sono due parole, due parole chiave. Il muro, se ci pensiamo bene, è una patologia del confine. La vita umana, soggettiva e quella dei popoli, collettiva, ha sempre bisogno per certi versi di confini. Noi abbiamo bisogno di distinguere l'interno dall'esterno, la nostra identità da quella dell'altro, abbiamo bisogno di radici che ci identifichino, ma quando il confine si ammala, quando perde la sua porosità, cioè perde la sua funzione, che non è solo quella di delimitare un'identità, ma di rendere possibile lo scambio. La virtù porosa del confine, che poi è la virtù della lingua, è quella di rendere possibile lo scambio. Ecco, oggi io dico che sia dal punto di vista politico, sia dal punto di vista che a me interessa di più, cioè clinico, il confine è diventato muro. E la cosa che colpisce è che questa malattia del confine che si ingessa, si indurisce, si irrigidisce e diventa muro, colpisce soprattutto le nuove generazioni. Questo fa molto impressione. A proposito di generazioni, io ti chiedo una cosa perché sono convinto che a casa interessa molto. Noi, apertura e chiusura, in questi giorni i giornali e le tv sono pieni di consigli su cosa preparare nel cenone di Natale. A me interesserebbe sapere da te come dobbiamo prepararci noi a questo momento dove incontriamo parenti che non vediamo per tutto l'anno e ci sarà una ragione se non le incontriamo dove ci sono le incomunicabilità, le tensioni, i rancori. Dobbiamo andare aperti, dobbiamo andare semi chiusi. Come ci dobbiamo opporre? Intanto io mi metterò a correre un po' di più visto quello che immagino mi toccherà mangiare. Ma riprendo un'indicazione molto saggia dall'etica di Spinoza, molto alta. Spinoza dice in fondo stiamo bene quando stiamo con i corpi, vicino ai corpi che ci fanno stare bene. Dunque il mio consiglio è scegliere bene i commensali. Mi sembra un consiglio che seguiremo tutti alla lettera. Massimo Recaltati. Grazie, alla prossima.